Questo weekend c'è la festa di Massimo. Ti stupirò, ma io questa volta non ci sarò. In effetti sono qui per convincere anche te a non andare. Lo so che ti piace Massimo, però... È sempre la solita festa. Solita, solito posto, solite facce. E poi si sa già come va a finire. Che tu te la svinghi con Massimo e io rimango lì. Circondata dai soliti. Che tanto non hanno speranza. Ma in alternativa, questa volta potresti venire con me. Ho vinto un viaggio per due persone. In un posto molto cool. Ma tu, se ci tieni tanto ad andare a quella festa e perdere questa occasione... Inutile che vada avanti con i dettagli. Ti dico solo che non te ne pentiresti. Sai, potrebbe essere il viaggio della nostra vita. È per quello che te lo dico. Ne abbiamo parlato tante volte. Io voglio cercare il mio futuro migliore. Ma se tu vuoi rimanere qui... A marrocire... Studiamo, studiamo... E poi ci ritroviamo con un pugno di sabbia. No, io non aspetto più... Ho bisogno di nuovi stimoli. E anche tu, da come mi dicevi. Bisogna sfruttare l'occasione. Vogliamo raggiungere il nostro sogno e il nostro obiettivo o no? Bene. Questa è l'occasione d'oro. Io la valigia l'ho già fatta. Quattro cosucce. Ci ho messo poco a prepararla. Si parte domani. Ma tu... Vorrei rimanere qui per andare alla solita festa, immagino. Eh, vabbè. Io mi rimbocco le maniche. Hai cambiato idea? Sì! Quindi... Ciao Massimo! Ciao Massimo!